Terza ed ultima parte di Antenna 2 Sport, abbiamo conosciuto due importanti in realtà in casi casa, Basket Parre e Aerobica Evolution. Adesso andiamo a parlarvi di un progetto molto importante che si tiene direttamente sul nostro lago. Vado a presentarvi due dei protagonisti del progetto Capitan Uncino, sto parlando di Danilo Ragni e Luca Sigel. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Danilo Ragni perché lei rappresenta la UISP ma è anche il coordinatore di questo importante progetto chiamato Capitan Uncino. Di cosa si tratta? Capitan Uncino è un progetto della UISP con una collaborazione della UISP Vela perché parliamo di Barchia Vela e cofinanziato dalla fondazione Vodafone attraverso la sua struttura Oso che è un sito web dove loro fanno i progetti di queste cose. E' in sei location in tutta Italia e 15 ragazzi insieme ad altri 15 ragazzi, totale 30, un po' disabili e un po' no, costruiscono una marca. Seguendo la metafora del Capitan Uncino, dei pirati, da quando i pirati andavano in giro per il mare a fare azioni piratesche ma avevano una regola che è una buonissima metafora perché racconta del fatto che anche se uno non ha un'abilità veniva messo nel gruppo e valorizzato per le abilità che aveva. Certo. E allora era veramente una squadra. Una grande squadra e chiaramente mi parlavate prima di UISP che vuol dire Unione Italiana Sport per Tutti. Anche questo è davvero l'acronimo di un progetto ancora più grande che coinvolge davvero tutti i ragazzi. La sezione Vela che io rappresento per quanto riguarda la Vela Lombardia e ne sono responsabile sono 70 circoli per circa 6.500 iscritti che vanno in barca a vela. Io sono anche formatore nazionale degli istruttori e faccio i corsi per loro e li affianco per imparare ad insegnare. E anche questo è davvero importante. Poi andremo ad approfondire anche il suo ruolo perché penso che poi i ragazzi vengono fatti andare in barca a vela e quindi verrà insegnata anche a loro come utilizzare la barca a vela. Ma non possiamo parlare di ragazzi senza coinvolgere le scuole e quindi abbiamo il piacere di avere qui con noi il preside dell'istituto scuola, della scuola secondaria di primo grado Madonna della Neve. Luca Sigel, chiaramente la scuola per questo progetto doveva essere coinvolta, la vostra scuola è coinvolta in prima persona? Sì, noi abbiamo accolto in maniera molto positiva e con entusiasmo l'iniziativa di Capitano Uncino proprio perché abbiamo visto subito come evidente come gli obiettivi e le finalità del progetto fossero in linea e in continuità con le nostre priorità educative. quindi sia perché questo progetto va a intercettare abilità e competenze diverse di ragazzi che hanno percorsi diversificati sia soprattutto per la creatività che questo progetto propone. Certamente il cuore dell'iniziativa è la volontà di inclusione di tutti i percorsi e in questo ci siamo imbarcati appunto subito in questa avventura. Noi stiamo vedendo alcune immagini, chiaramente alcune sono relative alla costruzione di questa barca, questa barca che verrà creata proprio nella vostra scuola, ma ci sono anche delle altre attività affini che vengono fatte con tutti i ragazzi. Sì, il progetto prevede varie fasi, quindi una fase diciamo più teorica nella quale i ragazzi vengono introdotti al mare, alla navigazione, alle caratteristiche dei nodi, l'allestimento di un cantiere che abbiamo allestito in uno dei locali della scuola, la costituzione della ciurma che appunto è formata da circa una trentina di ragazzi e adesso si inizierà un lavoro proprio della costruzione della nave e poi soprattutto di un lavoro più ampio di approfondimento della pirateria, delle leggi della pirateria. Interessante il fatto che nella pirateria c'era spazio per tutti e c'era l'idea dell'uguaglianza molto prima che poi diventasse un contenuto dei vari governi e delle varie rivoluzioni del continente europeo. Noi vediamo anche, abbiamo visto i ragazzi fare anche i nodi, alcuni nodi importanti, anche quello è la base della navigazione, la base della barca a vela, perché chiaramente prima di tutto bisogna far sapere, bisogna sapere fare e costruire i nodi. Abbiamo imparato anche noi a fare i nodi, ecco a scioglierli e anche a legarli. Ci sono tanti aspetti anche metaforici di questa attività, di inclusione, di operatività, come dicevo prima, il fatto di andare a intercettare abilità sia cognitive sia concrete e operative. Quando sarà pronta questa barca per la fine dell'anno scolastico? La barca è già in lavorazione, siamo alle prime fasi, la barca dovrà essere pronta per il 9 maggio, perché il 9 maggio ci sarà appunto il varo, il varo che verrà fatto qua al porto di Lovere e saranno coinvolti oltre i 30 ragazzi della ciurma anche circa 150 ragazzi della nostra scuola. Vorremmo quindi bonariamente invadere con questa ciurma di pirati il paese di Lovere. Quindi insomma da Adro a Lovere per mettere in lago la vostra barca e quindi mettersi anche in gioco, chiaramente poi con l'aiuto di Danilo Ragni. Quali saranno gli step di questo importante dato nel 9 maggio? Quando metteremo la barca in acqua ci sarà una grande festa, ci sarà anche un'orchestrina fatta da questi ragazzi che hanno inventato un inno, ci sarà anche uno slogan, ci saranno i ragazzi che presenteranno il loro ruolo nell'ambito della ciurma. Una volta fatta questa manifestazione noi proseguiremo con loro a fare un corso di vela e li porteremo in barca perché dovranno imparare a mettere la barca in acqua e andare da soli perché a luglio tutte le sei location verranno raggruppate in un unico posto in Italia e ci sarà una grande festa di tutte le ciurme e di tutte le sei barche che faranno una veleggiata insieme. Questo sarà penso a Salerno in Campania intorno alla prima settimana di luglio. Anche perché noi abbiamo parlato della scuola di Adro e abbiamo il piacere di avere qui con noi il preside, ma come ha detto questo progetto coinvolge altre sei scuole, altre cinque scuole, sono sei scuole in tutto, e del territorio italiano, quindi è un progetto che coinvolge tanti altri ragazzi e quindi è importante che tutti loro vengano lasciato questo messaggio, un messaggio importante di inclusione, ma soprattutto il messaggio anche dello sportivo e lo sportivo che sa andare in barca a vela, barca a vela che è uno sport per tutti. Sport per tutti ed è anche uno sport pulito, molto ecologico. Noi sul nostro lago abbiamo la fortuna di avere un vento termico generato dalle differenti temperature che ci sono sulla terra e sull'acqua, il vento è il nostro carburante. Esatto, esatto. Ma io sono curiosa perché voi sul lago amate la barca a vela e c'è questa passione che un po' viene tramandata. Lei come ha conosciuto la barca a vela? Quando ero ragazzo mia mamma mi ha comperato una barca. Io andavo con mio zio a fare quelli che chiamavano a quei tempi i naoi, che sono i noleggi, lì sulla strada induceva il turista a dare le dieci lire grandissime e io remavo e remando continuamente ho avuto molta confidenza del mezzo sull'acqua. Poi un giorno abbiamo visto che di notte c'era il vento che da l'overe andava a Iseo e che di giorno c'era il vento che da Iseo veniva a l'overe. Allora abbiamo detto ma perché remare per andare giù a Iseo? Andiamo giù con il vento. Ho rubato un lezzuolo a mia nonna, ho fatto su una vela e siamo andati a vela. E quindi ha deciso con l'intuito anche di sfruttare quello che era il vento e ha conosciuto così, anche in maniera autodidatta, ma questo è importante, quello che poteva sfruttare, quello che poteva utilizzare con questa barca a vela. La cosa davvero semplice, naturale, quella di prendere un lenzuolo e di farlo tramutare in vela. Adesso le barche a vela sono davvero complesse, sono più complesse. Però credo che anche il suo messaggio ai ragazzi, ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Adro arriverà e penso che lo abbia già anche spiegato. Certo, il signor Danilo è diventato un amico della scuola e non solo per la costruzione di questa scuola sono presenti anche un paio di artigiani che effettivamente aiuteranno i ragazzi a conoscere tutti i segreti della costruzione. E questo entusiasma molto, anche noi adulti devo dire, perché vedere i ragazzi impegnati in qualcosa di molto concreto, in un progetto che ha, come state facendo vedere, dei disegni, quindi delle proporzioni e quindi uno studio anche che va a toccare le varie discipline è qualcosa che la scuola evidentemente interessa. è proprio quello che è la competenza, cioè un sapere che poi diventa concreto. Il mettersi in gioco, questo creare questa barca, creare il cantiere all'interno della scuola ha detto che ha insegnato anche a voi adulti qualcosa di nuovo, per esempio i nodi, a fare i nodi, ma c'è qualcosa che le ha insegnato che non conosceva relativo alla barca a vela? Beh, credo che vedere una, perché la barca è arrivata smontata, quindi nei vari pezzi, c'è anche tutta una conoscenza dei vari elementi della barca, quindi della nomenclatura e anche della nomenclatura di quelli che sono i diversi compiti all'interno di quella che era il galeone, una nave, e infatti anche con i ragazzi abbiamo affidato i diversi compiti, dal nocchiero al nostromo, al carpentiere, al cuoco, al vice, ai vice dei vari ambiti. E questo è stato molto interessante e per i ragazzi entusiasmante. Immagino, immagino. Quindi appuntamento al 9 maggio, quando questa barca verrà messa all'interno del lago Nido, per questo battesimo importante e soprattutto per il primo viaggio di questa barca a vela. Complimenti ad Alino Ragni, complimenti al preside Luca Sigeli, in bocca al lupo per questo progetto. Continuate così perché, insomma, credo che ci sia da lavorare per arrivare al 9, pronti al 9 maggio, però, insomma, è bello questo messaggio che voi lanciate, è bello il messaggio che starà arrivando sicuramente a tutti questi ragazzi della Scuola Media di Adro.